Ciao a tutti! Buonasera a tutti, siamo la case e il boss Paolo, la madrina. Esatto, la madrina e il boss dei Magliuomini. Siamo qui perché vogliamo augurarvi buon Natale, vabbè, allora non riuscirà mai. Buone feste! E buona sale e buon anno! Alla salute! Vediamo dopo. Ci siamo ripromessi di essere concisi. Esatto, concisi. Insieme a noi non c'è Fabio e Cristiano. Ci sono Fabio e Cristiano, che però è come se fossero con noi, quindi fate finta che accanto a noi ci siano Fabio e Cristiano in piccione. E si uniscono con noi a questo video, che è qui, che siamo qui a registrare, per farvi appunto gli auguri di Natale. Esatto, l'associazione è nata l'altro anno, proprio in questo periodo, e in quest'anno abbiamo fatto un sacco di cose e per questo ci sentiamo una grande famiglia e quindi è per questo che dobbiamo festeggiare il Natale insieme, le vacanze. E ci sembrava anche il sistema più immediato di salutarvi invece di stare a fare un articolo chilometrico e scrivervi tante e tante righe che secondo noi, insomma. Invece abbiamo pensato di fare un video abbastanza rapido, corto e concito. Vabbè, nell'ipotesi. Passiamo subito a riassumere che cosa è successo in quest'anno. Come ha detto Cato e noi abbiamo fondato l'associazione all'inizio del 2016. In quest'anno abbiamo fatto molti eventi, tra cui il primo di tutti che ci viene in mente è stato Mascio, Maglio Ammi e Cioccolato, che abbiamo fatto a Torino presso il negozio Filo Filati di Fabio. È stato successo in Cioccolato e Maglio. Poi abbiamo organizzato a Firenze il Maglio Ammi Raduno, nella sede della Corrado Sedeschi Editore. È stato un bel momento per ritrovarsi tutti insieme, l'occasione per ritrovarsi sempre insieme ogni anno. Come succederà anche in questo anno, nell'anno venturo. Esatto. Poi ci hanno rappresentato da abilmente Roma Fabio, Fabio 48, Alessandra Estrella e Simone Villa presso lo stand delle Torri, delle Torri. Le Torri. Anche quello è stato un gran successo di pubblico, insomma ce ne hanno, abbiamo sentito l'emo anche a lungo dopo abilmente. Sarei voluta essere lì con loro. Anch'io. Collaborazioni importanti in questo anno sono la nostra collaborazione con Edizioni GES che... E non dimenticatevi il 10 gennaio prossima uscita, c'è il mio modello stavolta. Ancora in Enrico la trovate quello di Cristiano. Heidi! Il cappello. Il cappello natalizio per eccellenza. Esatto. E poi l'ultima collaborazione che abbiamo fatto come rivista è la Space Odyssey. In commemorazione anche di David Bowie. Abbiamo fatto una rivista con Borgo dei Pazzi per sponsorizzare i loro nuovi filati della collezione invernale in corso e per loro hanno lavorato Simone Villa, Alice Liotto, Valeria Olivati, Dario Gullover e Ilaria Calire. Esatto. Beh, vi rimetterei insieme, non è sempre. È sempre Ugo. Perché alla fine poi ne abbiamo combinati di cose di quest'anno. Anche riassumervi ci siamo fatti due appunti, ma anche riassumervi è difficile. Esatto. Ma soprattutto siamo qui per ringraziarvi, ringraziarvi per la fiducia che riponesi in voi, in noi. Ringraziare i soci dell'associazione, ringraziare i membri del gruppo, gli iscritti al gruppo. Esatto. Perché il discorso è sempre questo, l'associazione non esisterebbe, non esisterebbero Paolo e la Caterina se non ci fossero stati, se non ci si tratta di coraggiarci a chiederci di organizzare eventi, a chiederci di organizzare cose e anche semplicemente... A farci stare su Facebook magari una giornata per leggere i vostri commenti, per moderare i liti. Tutto quello che ci va. Sì, c'è sempre il dritto e il rovescio della medaglia. Siamo una grande famiglia. Si distincia. Siamo felici. E non si fa pace anche se c'è verso. e beh io a questo punto è il momento di ringraziare anche chi ha risposto alla nostra chiamata a tutti quelli che sono soci effettivi dell'associazione, sono membri del gruppo si uniscono tutti quelli che si sono messi in gioco proprio in prima persona per darci una mano e fra questi primi sono, scusate ma è un posto, mi esabrochite e ci sono i nostri capi redattori il nostro capo redattore e i nostri redattori, scusate Simone Villa che ha messo insieme una fantastica squadra che riesce a pubblicare due post barra 3 alla settimana queste sono tutte persone che hanno risposto leggendo gli articoli sul nostro blog che compariranno poi in sovraimpressione di qua, di là, qui, qua velocemente facciamo una lista di... in ordine alfabetico Alessandra Gentile Alessandra Estrella Alice Liotto Antonella Salone Beatrice Paino Dario Tubiano Elena Carretta Fabio Banfi Francesca Cecchietta Francesco Rosa Giada Mete Gianluca Sgalippa Laura Battagin Lia Adornato Maura Facchetti Pina Catanzariti Ve li abbiamo letti proprio tipo lista degli usciti alla... Ma li trovate sul blog e nella pagina redazione Per brevità che non abbiamo batteria nel cellulare la verità è questa Esatto Ringraziamo anche il nostro webmaster Michele Righetti Michela Reale che si sta occupando della parte SEO del nostro blog e del nostro sito e presto la nostra pagina facebook Questa è l'anteprima del... Bisogna seguirci ancora più da vicino perché lì ci saranno le notizie immediate, post, articoli, tutto quello che uscirà i video, gli eventi, tutto quello che... Tutto quello che conveniamo E poi ringraziamo di nuovo Alessandra Gentile che si occuparà di dare un restyling ai contenuti del nostro sito E in ultimo ma non ultimi, last but not least, le due moderatrici del gruppo Agnese Bifurco e Luisa Baccellieri Che ci stanno aiutando tantissimo a mantenere questa nostra comunità organizzata, ordinata E entusiasta Esatto A questo punto non ci resta altro che augurarvi... Tutto lo sentite piangere ma no No Allora Vabbè perché abbiamo questa fase del tempo ci mette anche Esatto Siamo anche dal registro che ci fa qualche minuto Esatto Ci abbiamo tipo 8 minuti d'autonomia A questo punto Un minuto ci resta Non ci rimane altro Che di brindare intanto Che brindare Esatto Se no finiamo senza farci E' esatto Oguri Paolo Che bello essere qua Oguri un caldito regista qui dietro Oguri un caldito regista E quindi velocemente dicendomi Se ancora volete Cioè se ancora Se anche voi volete partecipare attivamente nel nostro gruppo, nella nostra associazione Ci sono ancora dei posti che ci servirebbe Come dire Occupare Riempire Che sono per esempio Contabili Chi ci aiuta per la contabilità O l'ha detto stampa Esperti di YouTube O fotografi O anche semplicemente fotografi Per persone che riescano a rimettere insieme colori migliori per esempio Video migliori Buone feste E buon 2017 Buon 2017 Buon 2017 a tutti Ancora Salute Buon 2017 Buon 2017 Buon 2017 Buon 2017 Buon 2017 Buon 2018 Buon 2018 Buon 2018 Buon 2018 Buon 2018